Ciao a tutti gente, in questa guida vi spiegherò come installare Android Froyo 2.2 in versione italiana sul vostro Samsung Corby i5500. Nel caso per esempio vogliate aggiornarlo dal 2.0 al 2.1 oppure semplicemente il vostro Android non funziona più e non sapete cosa fare. Semplice, basterà reinstallare di nuovo Android sul vostro cellulare. Cominciamo subito con i file necessari, ODI, il programma per flashare tutto all'interno del Samsung Corby e OPS Europe, poi Android Froyo 2.2 versione italiana e ovviamente il vostro Samsung Corby i5500. Allora, prima di tutto portate il telefono in download mode, cliccando tasto volume giù, home più accensione spegnimento, home oppure fine chiamata. Questi tre tasti insieme li tenete premuti insieme appunto. da telefono da telefono spento. Dopodiché collegate il cellulare al computer. Subito dopo fate partire ODI. Ah, tutti i file necessari si trovano nel link in iscrizione. Facciamo partire ODI. Selezioniamo l'OPS, ecco qua, Europa versione 1, dopo selezioniamo One Package e selezioniamo il file TAR con tutto l'installazione di Android. Ecco fatto, nulla di più semplice. Qua dove c'è scritto COM port mapping ci sarà scritto COM 17, 15, READY in giallo. Dopodiché, se tutto va bene, qua comincerà a partire il timer per indicarvi in quanto tempo verrà installato tutto quanto. E qui vi indicherà i processi che sta eseguendo. Molto bene, nulla di più semplice a nuova. I file sono tutti in descrizione e vi aspetto al prossimo video. Ciao gente!